Orini by Orini World è una maglietta molto sexy che per una donna guida gli uomini che cazzo le fanno? c'è qualche fanciulla che vuole la maglietta Orini? allora facciamo così la regalo alla prima donna che mi fa sentire l'unico femminile più forte in Italia solo così? la lanciamo a quella ragazza bionda che parla sul tubo la lanciamo alla sua amica che potrebbe fare il tubo non scherzo la lanciamo a una ragazza che parla sotto la pensione facciamo così io la lancio e voi li aggiustate voi vado vado facciamo così la lancio la prima manciulla che staremo le mie mani al cielo vado lì vado vissa vado vissa è stata lei la prima quella cosa è Sara e Fucsia vado vai vado Grazie a tutti.